MERCOLEDÌ DELLA VENTINOVESIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché, nell'ora che non immaginate, viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato, quel servo che è il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, che lo metterà a capo di tutti i suoi averi? Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi, e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, e ha un'ora che non sa, lo punirà severamente, e gli infligerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Potrebbe sembrare una paura, che suscita paura, quella che ci viene rivolta nel Vangelo di oggi. Ma in realtà Gesù ci aiuta a fare solo un bagno di realismo. Allontaniamo spesso l'idea della morte. Pensiamo che essa esiste, ma che in fondo non ci riguarda. Eppure il Vangelo non vuole lasciarci in compagnia dell'angoscia di morte, ma vuole che consideriamo la nostra vita a partire da questo dato certo, e cioè che è un viaggio, e che ha un termine. Questa consapevolezza ci ridimensiona, e fa cadere molte cose inutili per cui ci impuntiamo o per cui viviamo. Quando hai qualcosa in questa vita, non sei fortunato, né sei solo infinitamente responsabile. La salute, una casa, l'intelligenza, degli amici, dei talenti, tutte queste cose Dio ce le dà non come proprietà privata, ma come custodia, anzi, come amministratori che sanno far fruttificare, gestire a favore di tutti, conservare perché nulla vada perduto. Il padrone ultimo non è l'io, ma Dio. Vivere la vita come proprietà privata è solo illudersi che il vero proprietario alla fine non tornerà, eppure tornerà, e domanderà conto della fiducia che aveva riposto in ciascuno di noi il giorno che ci diede la vita, che ce la consegnò nelle nostre mani, che la rischiò mettendola in balia della nostra pochezza. La memoria di ciò ci rende prudenti, non paurosi. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello, invece, che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. E' interessante che tutto questo discorso sia fatto ai discepoli, e a Pietro soprattutto. Infatti, è lui che chiede spiegazioni, e a lui Gesù risponde, inchiodandolo in dono esigente. Grazie. Grazie.